Allora, di fronte a questa esperienza abbastanza difficile però, insomma, che sta portando delle soddisfazioni di successo, occorre guardare anche al futuro. Quindi annuncio l'intervento conclusivo del direttore scientifico di Earth Day Italia, Roberta Cafarotti. Buongiorno a tutti. Abbiamo ascoltato, diciamo, due voci diverse. Il mondo della finanza responsabile e sostenibile, dall'altra parte delle esperienze particolarmente concrete. In particolare noi ci chiamiamo Earth Day Italia, quindi dovremmo parlare di ambiente fondamentalmente. E qua invece, su questo tavolo, diciamo, più pratico, abbiamo in realtà parlato di innovazione sociale e di innovazione finanziaria. Perché in realtà nel famoso triangolo dello sviluppo sostenibile ambiente, società ed economia, pensiamo che le questioni ambientali vadano affrontate proprio da questi due punti, da questi due punti nevralgici. Vi dico, ad esempio, che i due grandi problemi che i grandi investitori che fanno investimenti d'impatto, giusto appunto, identificano le grandi sfide, i grandi freni allo sviluppo degli investimenti d'impatto, sono fondamentalmente due. Si ha difficoltà a trovare soggetti sui quali investire. Quindi c'è proprio un problema, diciamo, di tessuto imprenditoriale sul quale poter effettuare investimenti d'impatto. La seconda questione fondamentale è che coloro che già hanno nel proprio DNA il desiderio di investire e di creare valore per l'ambiente e per la società, hanno timore di perdite di capitali nella scala, diciamo, naturale di valutazione dei rischi legati ai propri investimenti. Rispetto a questo, fondamentalmente ci vengono in mente che le due grandi soluzioni alle questioni sono, uno, lo sviluppo di un terreno fertile in cui l'impresa sociale è un soggetto che ci aiuta, che ci ispira. Goel non è solo un'impresa sociale, è un territorio, cioè quella parte di territorio positivo che è in grado di inventare e di guardare al futuro. Andrebbero trovate tanti altri casi ispiratori come quello di Goel. In realtà molti già ne abbiamo e molti speriamo che ne verranno nel futuro. Pensiamo che la riforma del terzo settore che è in discussione in questi giorni, o meglio è in consultazione popolare, sia un elemento importante, forse non risolutivo, ma è uno di quei semi che può produrre sviluppo sostenibile nel futuro e soprattutto storie positive. L'altro grande problema invece è trovare capitali che siano in grado di catalizzare energie positive, quindi dei fondi, benvenga il fondo per le imprese sociali promesso dal governo Renzi, benvengano delle sperimentazioni anche in questo senso, non tanto sperimentazioni della serie, proviamo e vediamo poi che cosa succede, ma trovare degli investitori istituzionali che siano in grado di dare fiducia a dei territori e intorno a questi è facile immaginare che si possa creare un ecosistema positivo capace di attrarre altri investimenti a cascata. Quindi da una parte va costruito un ecosistema di imprese sociali, di imprese ibride, quindi di imprese che si muovano tra il profit e il no profit, che sappiano tirar fuori il meglio di un'esperienza e dell'altra e dall'altra parte trovare dei soggetti in questo momento coraggiosi, perché uscirebbero fuori da un coro da un coro che va in senso contrario, legati al mondo finanziario, quindi investitori istituzionali oppure le istituzioni che attraverso dei fondi ad hoc per le imprese sociali oppure i fondi che derivano dai beni confiscati alla mafia, quindi capitali giacenti, capitali che non producono ricchezza, convertirli su un tema così avanzato di sviluppo e di sperimentazione perché ovviamente siamo ancora in una fase di sperimentazione. Attendiamo dei segnali e per questo ne discuteremo dentro il forum Terra Italia e in tutte le iniziative che dal forum Terra Italia nasceranno proprio nei diversi territori. Ragioneremo in Locride, in Alto Adige, in tutti quei territori che avranno desiderio di riflettere sul proprio futuro, sul futuro dell'Italia e anche sul futuro del pianeta. Con questo ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo convegno, ma in particolare sempre per Erda Italia crede fortemente al tema dell'innovazione sociale. Per questo abbiamo fatto una mostra fotografica insieme con Show for Change, l'abbiamo chiamata Cambiamo Clima, che suona diciamo bizzarro perché il clima non dovrebbe cambiare o meglio dovrebbe seguire il suo corso naturale, ma noi ci riferiamo non al clima meteorologico, ma al clima sociale. Abbiamo cercato di raccontare insieme a Show for Change, 23 storie e siamo oggi insieme con il territorio e con il comune di Roma ad ospitare queste 23 storie meravigliose, ma non dico altro perché ci saranno persone che lo racconteranno decisamente meglio di me.